benvenuti in questo nuovo video oggi vediamo un video di metafonia e canalizzazione chiamo giuseppina da parte di gennaro andiamo subito a vedere la sessione di metafonia e poi la canalizzazione e quello che è successo nei giorni subito dopo la mia metafonia ok andiamo a schermo intero eccola qua via metafonia e canalizzazione per aiutare un'anima perché quest'anima giuseppina era in difficoltà o almeno ho capito che era in difficoltà e abbiamo provveduto a sistemare la situazione andiamo a vedere ok passiamo a un altro contatto per gennaro mi dice buongiorno adamo vorrei un contatto metafonico con mia zia che si chiamava giuseppina e chiederle se sta bene e se ha qualcosa da comunicarmi ti ringrazio allora chiedo innanzitutto giuseppina c6 per gennaro e qui arriva una risposta dice qui e si sono qui e poi dice cena e già qui incomincio un qualcosa di particolare e strano che si trasporta in tutta la sessione ma andiamo avanti che piano piano incominciamo a capire lo stato evolutivo di quest'anima dice sono ferma sono sospesa ho un amico qua dice che ha un amico io qui ho pensato un amico nel vero senso della parola nel senso che aveva un'altra anima come amico conosciuto in vita poi dopo ho riflettuto un po' perché se adesso noi andiamo avanti sulla a sentire la metafonia ho capito che questo amico non era un'anima e qua dice li cucinerete li preparate da mangiare quali cucinate che cosa che cosa che cosa state andando a cucinare vile pesce si vede che non gli piaceva il pesce in vita e qui incominciamo a capire una cosa molto importante fondamentale che ci sta parlando di cibo e poi dice ho un amico qui e parla di cibo allora giuseppina innanzitutto volevo chiederti se stai bene sei nella luce io gli chiedo se sta bene se nella luce e lei poverina mi risponde odio le bruschette ancora cibo e qua c'è un'interazione molto particolare e capiamo l'evoluzione di anima in questo stato un'anima che è nella luce dice qui c'è re qui c'è gesù in questo momento lei mi dice mi vede cristo perché c'è gesù che sta osservando la sessione e lei lo chiama cristo non lo chiama re o gesù è particolare questa interazione perché comunque mi fa capire una determinata cosa che poi avverrà nei giorni successivi dice peso porta un peso nella nel suo nel suo corpo eterico e avevo spiegato in altri video che noi dobbiamo liberare i nostri pesi nelle nostre nostre debolezze le nostre marachelle e poi quella parte scura che comunque per andare nella luce dobbiamo liberare ricordate questa questa parola parte oscura quindi parte nera nel corpo eterico perché il corpo eterico deve essere luminoso per entrare nella luce quindi lei non può entrare nella luce però dice la dolcezza io sono in difficoltà mi fa capire dice che porta un peso però è un anima dolce e dice che sta piovendo quindi si ritrova in un ambiente scuro dove non arriva la luce e sta piovendo chi si ricorda di aver visto il film la nostra dimora il film inizia proprio così in un punto buio scuro e dove piove quello è un paesaggio astrale non molto bello e qua dice sto con le stelle ho visto l'orsetto hai visto l'orsetto sta chiedendo a gennaro se hai visto l'orsetto e non so questo dovrebbe dircelo dovrebbe dirmelo a gennaro però sto con le stelle in in questo momento della sessione lei vede le stelle cioè vede i ministri vede praticamente chi mi sta guidando in questo momento in metafonia che poi le stelle insieme a cristo decideranno di fare una cosa molto particolare che spiego più avanti e infatti dice stelle guida lei guide che ci sono in metafonia con me che mi guidano mi pare di aver sentito quasi però devo ascoltare poi il girato giuseppina hai un messaggio per gennaro da comunicargli parla di fiori cioè o meglio a pianta la mimosa penso che forse era molto legato alla mimosa gli sta dicendo le mimose penne segnali molto probabilmente è successo un qualcosa magari genaro si è accorto di un qualcosa che lei ha mandato dei segnali eglio non so chi sia perché dice eglio mio penso che forse sarà il figlio non so e dice che ha commesso troppi errori e poi mi ripete sono sono qui guido che dice sono qui sono qui e mi sto facendo guidare in questa sessione di metafonia poi dice l'onomastico penso che si riferisce a non so se è passato da poco l'onomastico o dovrà arrivare a qualcosa di questo genere perché posto anche il santo del giorno su anime santo e purgatorio.net non mi ricordo comunque dice attenzione al mio onomastico qua dice parla penso di un parente Gianfri è una stella è nella luce e dice che lavora ok adesso ti lascio ancora un po' di spazio cara Giuseppina sempre per Gennaro ti lascio ancora un po' di spazio cara Giuseppina così puoi esprimere un altro concetto e poi ci lasciamo intanto ti ringrazio Giuseppina di essere qui di mandare messaggio a Gennaro grazie dice dove è il mojito la bevanda e qualcuno gli risponde cassetto ma molto probabilmente stanno sta riferendo un qualcosa che c'è un qualcosa in un cassetto e dice una mia guida gli dice parla su qua dice aviere non penso che sia Giuseppina ma è qualcuno che si infila dentro ed era un aviere e dice che adora i muffin e qui parla ancora di cibo difatti le mie guida dicono se non parla non riuscirai a farti capire ed essere aiutata Dio sente Dio sente sempre Papa Dio è sempre presente Papa Dio sente sempre e le guide dicono e le anime che ci sono dicono è vero che Dio sente sempre tutto va bene grazie Giuseppina vale qui arriviamo alla fine adesso non stacco non torno sul mio faccione ma vi spiego una determinata cosa è successo questa qua l'ho registrato una domenica e il lunedì avevo problemi di cibo nel senso allora spiego meglio questa cosa spesso e volentieri le guide arrivano quando io chiamo si portano determinate anime altre anime arrivano da sole e poi quando se ne vanno le guide se ne vanno anche le altre anime in questo caso hanno scelto di lasciare Giuseppina a casa mia per un determinato motivo perché comunque adesso andiamo a vedere qual è questo determinato motivo il lunedì io in quella giornata ho avuto sempre fame è successo che a mezzogiorno esco dal lavoro vado a casa mangio alle due e mezzo arrivo a lavoro guardo il mio datore di lavoro e gli faccio mamma mia c'è un buco nello stomaco ho una fame che mi mangerei una pizza e per tutto il pomeriggio ho avuto fame ho mangiato caramelle roba di questo genere non capivo da dove arrivava questa cosa di questa sensazione di mangiare 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 vado a cena mangio erano le otto un quarto otto e venti mi scrivo con la mia amica e lì avevo ancora sto buco allo stomaco e avevo fame e adesso andiamo a vedere una cosa molto particolare allora mentre stavamo scrivendo mi stavo scrivendo con la mia amica e mi dice Adamo mentre ti scrivo qualcuno mi ha dato dei colpi al collo un po' fastidiosi mi risulta che hai un'anima donna vicino a te io il giorno prima avevo registrato per lei e io capra donna non so chi sia allora la mando via perché non è molto positiva ho pensato che fosse qualcuno da fare metafonia allora la mando via io capra mi ricordo che il giorno prima avevo registrato giustamente per una donna e gli faccio aspetta chiedi se si chiama ho registrato per lei ieri fissata con il cibo e non stava bene e per fortuna che io alla mattina avevo registrato al pomeriggio avevo sentito ho incominciato a sentire la metafonia e avevo sentito che comunque lei mi parlava sempre di cibo 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 e mi dice la mia amica ah infatti io sono a tavola però chiedo e gli faccio vabbè tranquilla amica mia mangia e poi dopo chiedi dopo infatti gli scrivo dopo mangia tranquilla non ci credo io dico incredibile ha bisogno di un aiuto povera e lei mi dice ok vedo dove si trova grazie gli rispondo grazie ecco perché oggi avevo sempre fame come se non avessi mangiato oggi stavo malissimo sempre con la pancia vuota ma invece io mangiavo ma mi sentivo sta cosa che dovevo mangiare 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 la mia amica mi risponde ah allora è lei io sono seduta a tavola come ho detto prima e lei mi ha dato dei colpetti tra il collo e la guancia ho capito che non era per farmi male ti farò sapere tra poco e io gli dico ok grazie così mi passa sta fame ho appena finito di mangiare è incredibile avevo ancora fame e mi chiede se era sposata e gli faccio eh non lo so però in sessione diceva che aveva un amico con lei ecco qui l'amico mi dice la mia amica non ti preoccupare non ti preoccupare volevo capire lei mangiava non perché gli piaceva cioè non è nata di quello il fatto di mangiare ma è altro quindi stiamo parlando purtroppo di una malattia che affligge molte persone allora io già la mia amica aveva capito tutto ah ok ora capisco la sessione anche se non ho non l'ho sentito tutta parlava di cibo e mi ha detto le broschette non gli piacciono poi mi diceva che non stava bene ma vedeva Cristo in sessione penso che era che c'era anche Gesù o era un altro non so perché comunque mi appariva un po' la sessione poco chiara quindi mi scrive ora sto per parlare di nuovo se hai anche qualche altro da chiedere scrivi allora gli chiedo se vuole mandare un messaggio a Gennaro visto che comunque ha parlato solo di cibo poverella e di andare nella luce che qui non è posto per lei adesso andiamo a un'altra cosa scusa ho finito ora l'ho portata via scusa ho finito ora l'ho portata in un altro piano più su dove sta meglio domani la devo risentire perché vorrei spostarla ancora se mi viene dato il permesso ecco non è che la mia amica va a prendere le anime le porta direttamente nella luce è sempre questione di permessi abbiamo dei permessi per fare metafonia c'è gente che fa metafonia non hai permessi c'è gente che comunque come la mia amica deve sottostare a leggi non scritte però deve sottostare a altre guide che gli dicono ok tu puoi farla salire di un livello due livelli tre livelli oppure ok lo puoi portare direttamente o la puoi portare direttamente nella luce domani la devo risentire perché vorrei spostarla ancora se mi è permesso intanto mentre parlavo con lei è venuto fuori un'entità nera come la pece era bruttissimo si nutriva dell'energia delle sue emozioni ha cercato di attaccarmi ma l'ho sistemato e qua nel nome di Giovanna Gio è cambiata appena è uscito quello abbiamo parlato un po' e poi gli ho detto di riposare che domani sentirò come sta quindi ne approfitterò per chiedere se ha qualcosa da dire a Gennaro mi stringe cuore per quello che ha dovuto vivere per fortuna ci sei tu beh che ci sono io per fortuna che c'è anche la mia amica in questo caso e adesso vediamo il cambiamento la maturazione il cambiamento di livello che comunque ha Giovanna Gio in questo in questo in questo liberarsi di questa cosa nera come dicevo in altri video che bisogna liberarsi di cosa nera questa cosa era veramente brutta che purtroppo se la portava dalla vita e come vedete non è che noi andiamo di là e ci lasciamo tutte cose nel senso queste tipologie di cose ci rimangono dentro come anche alieni non alieni entità negative esseri angeli caduti eccetera eccetera c'è gente che comunque queste cose non le capite penso che non le capirà mai comunque andiamo alla canalizzazione totale Adamo ho qui Gio e vuole parlarti direttamente a te ciao non so dove dove cominciare perché anche la mia vita è stata incasinata non tanto fuori di me ma dentro di me poverina questa cosa mi stringe veramente il cuore purtroppo non sempre c'è un errore grammaticale ma alla fine capiremo il perché va tutto come dovremmo e molte volte i sogni restano solo illusioni e ti distruggono dentro ma si fa finta di niente per non preoccupare gli altri e intanto la vita scivola via come in un fiume dove l'acqua è obbligata a scorrere sempre nello stesso verso però Gio Giovanna mi ha fatto capire che il corso dell'acqua ah no la mia amica mi ha fatto capire che però il corso dell'acqua si può deviare e prendere un'altra direzione e forse in questo modo avrei potuto evitare certe cose dannose a me e non far soffrire le persone che amo i problemi si possono risolvere finché si è nel mondo vorrei che chi come me sta soffrendo capisse che bisogna accettare accettarsi per come siamo nel bene e nel male e vivere anche con i nostri difetti purtroppo questa cosa accade molto spesso la perfezione appartiene a un altro mondo forse qualcuno dovrebbe dircelo invece di farci sentire un nulla purtroppo questa cosa accade ma la colpa è anche nostra mia in questo caso che non ho provato ad aprirmi realmente a me stessa e ad altri il mio corpo era come un vestito che non mi piaceva ma non era il corpo in se stesso ero io a distorcere ciò che mi guardavo riflesso in uno specchio e qui purtroppo avevo una malattia da quanto stiamo capendo tutto questo silenziosamente lo annegavo in me intanto qualcosa in me si nutriva di tutti questi sentimenti e il cibo sembrava quasi una via di uscita per calmare quella voce in me ora vivo sono consapevole non sono quella persona che hai conosciuto e qui il cambiamento incredibile dalla metafonia alla canalizzazione dopo avergli tolto quella cosa nera e voglio fare tutti i passi che dovrò fare per arrivare alla vetta e qui praticamente parla della luce a cui quale ogni essere umano aspira ringrazio il mio amore gennaro paziente con me e grazie a lui che oggi sono cambiata chiedendo aiuto a te ad amo lui merita molto di più dalla vita e vorrei che fosse felice mi ha dato tanto ed ha sopportato tanto lo ringrazio per ogni momento che mi ha dedicato e che porterò con me come un tesoro prezioso a gennaro gli dice grazie amore mio oggi ho un significato immenso per me dirtelo molto più di tante altre volte perché sono libera da qualcosa che non ero io poi un grazie alla mia amica molto dolce e compressiva nei miei riguardi che Dio benedica a lei e te ad amo al mio amore sei libero da quei brutti ricordi pensa a me per come per come mi hai conosciuta e soprattutto vivi e ama perché te lo meriti ed io ti do la mia benedizione grazie ancora a voi che mi state aiutando con tutto il cuore e qui si sente intensamente ciò che ha provato grazie 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 poi la mia amica dice Adamo è bellissimo lei è in un bellissimo prato non vuole salire più su perché vuole lavorare bene su di sé e vuole meritarsi quel posto nella luce quindi questa è una grande lezione di vita che stiamo vedendo cioè questo pezzo non è voluto andare nella luce perché vuole capire determinate cose e la luce se la vuole meritare comprendo e capisco così un giorno ci andrà da sola fiera di se stessa di ciò che avrà realizzato non ti dico le emozioni che ho provato ma puoi immaginarlo eh sì sono felice per lei e anche Dio Padre la benedica durante tutto il suo viaggio un'altra cosa copri pure il mio nome purtroppo lei lo ha scritto perché ha usato il mio corpo e non potevo intervenire mentalmente altrimenti l'avrei interrotta grazie per aver fatto conoscere Giovanna e poi dice scusa ci sono delle lettere sbagliate nello scritto purtroppo scrivendo veloce non ho potuto vedere solo dopo averlo inviato l'ho letto dunque so che comprenderai grazie ok andiamo sul mio faccione no non è questa qui è questo no 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 è questo qui e niente questa era questa canalizzazione metafonia assieme metafonia e canalizzazione assieme per aiutare questa povera anima che ha avuto difficoltà in vita con una malattia purtroppo molto che è molto di questi tempi e non solo e niente ci fa piacere aver aiutato Giovanna e ci ha insegnato determinate cose e il cambiamento della metafonia la canalizzazione vedete comunque quando si è liberata di questa cosa nera brutta oscura è cambiato tutto ecco insomma al prossimo video ok passiamo a un altro contatto per Gennaro mi dice buongiorno Adamo vorrei un contatto metafonico con mia zia che si chiamava Giuseppina e chiederle se sta bene e se ha qualcosa da comunicarmi ti ringrazio allora chiedo innanzitutto Giuseppina ci sei per Gennaro Allora Giuseppina innanzitutto volevo chiederti se stai bene sei nella luce mi pare di aver sentito quasi però devo ascoltare poi il girato Giuseppina hai un messaggio per Gennaro da comunicargli ok adesso ti lascio ancora un po' di spazio cara Giuseppina sempre per Gennaro ti lascio ancora un po' 30 secondi così puoi esprimere un altro concetto e poi ci lasciamo intanto ti ringrazio Giuseppina di essere qui di mandare messaggio a Gennaro grazie va bene grazie Giuseppina adesso passiamo ad un'altra sessione spengo la telecamera e poi riaccendo grazie a Grazie a tutti